Siamo noi la famiglia Hey come state? Nel video di oggi Vittorio e Leone fanno colazione con le garotine Nel pomeriggio insieme a mamma Chiara visitano una nuova casetta In serata Vitto vuole vestirsi da Elsa per andare allo stadio Vi lascio il video, buona visione Cosa fate? La patata Elsa E la bua Eh? Bua Dammi un bacino Dammi un bacino Dammi un bacino Dammi un bacino Perché me l'ha prongiato anche il papà Mio papà Ma un petattino di carota No io sono il mister carota Io non mi devo dare Da tanto non andate a scuola E non andate più a scuola? No No? Basta Mamma e papà State sempre con la mamma e il papà? Basta? Mamma e papà Col papà adesso? Sei Ramonella tu? Io non ho Elsa Vuoi vestirti da Elsa? Sì Amore Però dopo la partita Perché dopo la partita ci vestiamo da Elsa Vuoi andare allo stadio vestita da Elsa? Sì Ma amore ma non puoi andare allo stadio vestita da Elsa Scusa Scusi lei Scusi Dovremmo fare un massaggio qua Paloma Parkour vai Vai Beh se questa non è agilità e riflessi Dove è andata Paloma? Dove? Va bene Sarà vicino al cavallo amore vai Beh Un cane da riporto Ciao Dove vai? Dove vai? Ma cosa? Ma piano Non saltare così che ti fai male Rimba Ma poi sei tutta scordinata Pia Paloma Non saltare Paloma 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 Basta Calmiamoci Brava Brava Non ci provare Paloma 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 I bacini sì I morsi no I bacini sì Così sì Di azzardare Paloma Brava Ma te lo lancio Dammi Vai Pronta Vai No dovevi prenderlo No L'hai dimenticato È lì Ma dove vai? È lì No Devi prenderlo Te lo dimentichi Ti gasi troppo Esatto Bravo amore Ci ho messo mezz'ora Ma bravissima Ciao ragazzi Sono Federico Anche chiamato il Dog Whisper Oggi vi insegnerò Come distillare amore Dal vostro cane Questo è l'amore Che queste piccole creature Possono donarci Questo È il sentimento Che questi piccoli cuccioli È l'amore Che questi animali Ci possono dare Seguite altri consigli Del Dog Whisper Per migliorare Il vostro rapporto Con il vostro cane Aia Cazzo Volevo ringraziare Anche tutte le persone Che stanno affrontando Il tema dello psicologo Di base Che è assolutamente La nostra battaglia Con la petizione Che abbiamo lanciato Nella petizione Noi chiediamo Più soldi Per la salute mentale Nella sanità pubblica Ma oltre a questo Stiamo chiedendo Che visto che ci sono Dei soldi stanziati Per il bonus psicologo Che sono praticamente bloccati Di sbloccare Quanto meno Quei denari lì Quindi ovviamente Una cosa non esclude L'altra E l'obiettivo È assolutamente Arrivare Ad avere Lo psicologo Di base Intanto abbiamo superato Le 230.000 firme In 24 ore Io vi ringrazio di cuore Continuate a firmare A condividere la petizione E intanto Stiamo preparando L'email Da mandare al ministro Per chiedere Un incontro ufficiale Se ti è piaciuto il video Lascia un like Ed iscriviti al canale Ciao